Ciao a tutti amici, un saluto alla Panic e bentornati qui su Destiny. Allora, prima di tutto due premesse. Se mi state guardando sul mio canale principale non troverete nulla di nuovo perché questa delle best weapon è una serie a cui siete molto affezionati e che conoscete già benissimo. Se invece mi state guardando sul canale di EvryEye dovete sapere che questa serie qui, ovvero l'analisi delle migliori armi del gioco, è un qualcosa di nuovo che vi porterò con cadenza settimanale. Mi è stato richiesto dai ragazzi di EvryEye e quindi sono felicissimo di farlo. Insieme analizzeremo tutte le armi migliori del gioco e anche qualche magari armi a particolare che non tutti conoscono e che vi consiglierò di acquistare o di trovare all'interno del gioco. E come non partire da quella che è sicuramente una delle armi più forti all'interno di tutto il gioco di Destiny se non la più forte per valore assoluto e influenza all'interno del gioco. Stiamo parlando del Gjallarorn, si pronuncia così. Gjallarorn, intanto iniziamo con una chicca perché il nome Gjallarorn è tratto dai fumetti, dai mitici fumetti Marvel ed è il corno che suona Eimdall, nonché guardiano di Asgard, la terra dove vive Thor. Questa è una piccola chicca che magari nessuno di voi frega però è giusto che lo sappiate. Allora, partiamo subito con l'analisi delle statistiche un po' in generale. Vedete che essendo un lanciarazzi e una cadenza bassissima, area di impatto altissima, velocità, ovvero la velocità con cui i proietti escono dal caricatore, molto elevato, una stabilità ottima e una ricarica abbastanza alta, vedete qua, il massimo, quindi altissima direi. Due colpi nel caricatore, 331 d'attacco con danni solari. Questa è la versione ovviamente nuova, già maxata al 331. Allora, vi faccio vedere un pochettino come l'ho messa io e poi andiamo a parlare dell'arma in generale. Io li tengo su lancio morbido che riduce il rinculo e la velocità. Vedete che gli altri due perk vanno a ridurre tutti e due la velocità a discapito di una sempre maggiore stabilità che è abbastanza inutile perché io preferisco tenere, diciamo, la velocità il più alta possibile. Poi, rintracciamento. I proiettili sparati da quest'arma seguono i bersagli, uno dei perk migliori per un lanciarazzi perché ovviamente vi basterà agganciare il bersaglio e i vostri proiettili seguiranno automaticamente il nemico. Poi andiamo nella colonna centrale dei perk. Questa arma può essere stata con una velocità notevole. Prendi la mira molto rapidamente, mentre quello che uso io è ricarica l'arma velocemente. Questo perché magari all'interno di un ride come la fine di Crota, ricaricare in modo veloce per poter sparare subito a Crota e buttarlo giù, piuttosto che alle magliarde, piuttosto che a qualsiasi tipo di nemico vogliate, avere la ricarica veloce è molto molto utile, anche prendi la mira può essere utile, però secondo me quello che vi conviene mettere è ricarica veloce. Poi andiamo al perk che rende il Ghiallarorn veramente incredibile. Proiettili del branco. Quando esplodono i proiettili sparati da quest'arma si dividono in missili traccianti a grappolo. Con questo perk farete veramente tantissimo danno in più, adesso non so in percentuale esatta quanto sia, ma penso anche un buon 50%, un 40% in più, se non anche di più. Se qualcuno di voi lo sa nello specifico lo scrivo qua sotto nei commenti, quindi assolutamente questo è il perk che rende il Ghiallarorn qualcosa di veramente veramente incredibile. Se siete stati fortunati, acuti, l'avete potuto acquistare da Xur la seconda settimana di gioco, quindi mi sembra la seconda settimana dall'uscita del gioco a partire da settembre, lo vendeva, molti di noi non se lo sono minimamente cagato di striscio, chi l'ha voluto acquistare ha fatto un grande acquisto. Per chi di voi è stato più fortunato e l'ha droppato successivamente, poi magari l'ha riforgiato da Xur, meglio ancora per i poveri di voi, spero non tanti, quindi pochi di voi, che non lo posseggono, vi consiglio assolutamente di trovarlo in qualche maniera, avete mille opzioni, le casse esotiche all'interno dei ride, la volta di vetro, piuttosto che il drop esotico della magliarda all'interno del ride a fine di croda, piuttosto che incrociare le dita ogni venerdì per cercare di trovare lo da Xur sperando che lo venda. Mentre finiamo di parlare dell'arma, scorrono sotto le immagini di gameplay, dove vi faccio vedere che l'utilizzo contro mosti di livello 26 e 30, se non sbaglio, tutti e due boss finali, vedete che soprattutto su Omnigul fa quasi un 50% di danno un caricatore intero, quindi è molto molto utile, vedete che sparandoli addosso 7 colpi gli togliamo la metà della vita, quindi fate un po' voi conti, se siete tutti e tre ad averlo vi basteranno veramente pochissimi colpi per tirarla giù, mentre vedete anche su Sepkis Primo, che è il boss della Tana dei Diavoli, faccio veramente, veramente un sacco di danni sparandoli non molti colpi. Questa appunto per bilanciamento generale delle armi è un'arma veramente fortissima perché i boss, piuttosto che i nemici gialli, quindi gli ultra, i maggiori, li terrerete giù in veramente pochissimo, pochissimo tempo. Ancora una volta vi consiglio di reperirla in qualche modo, in tutti i modi e disposizioni che avete all'interno del gioco. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, lasciate un like come al solito se apprezzate il video, se apprezzate la serie, commentate qua sotto, fatemi sapere se anche voi pensate che sia una delle armi più forti del gioco, se ce l'avete, se non ce l'avete, insomma qualsiasi cosa vi salta in mente. Noi ci vedremo al prossimo video, un saluto alla Panic ragazzi, grazie ancora.